Annullata la camminata rosa, la marcia che ogni anno vede spilare da Mercogliano-Davellino migliaia di persone sarà riprogrammata nei prossimi giorni. La conferma arriva dall'idiatore dell'evento, il dottor Calroia Nace. Purtroppo non abbiamo dati definitivi, per cui siamo costretti anche per questo motivo a dare un rinvio, anche perché il motto della nostra camminata è quello della prevenzione, quindi sarebbe poco corretto fare una giornata così tanto preparata, tanto spettata in queste situazioni. I dati per quanto la data di ossina saranno punti domani sera, quindi non è possibile avere dei dati prima, e quindi come facciamo a fare una giornata senza dati certi? Ancora siamo sicuri, tutti saranno partecipanti e siamo tutti contenti. Grazie. Pina, l'unico rammarico è che domani la giornata dal punto di vista meteorologico sarebbe stata sicuramente favorevole, però considerati gli ultimi eventi è giusto così. Assolutamente sì, non possiamo inneggiare alla vita e alla prevenzione in un momento così delicato del nostro territorio. Quindi rinviamo per pochissimo tempo, il tempo di riorganizzarci tutti, di avere di nuovo le autorizzazioni e di riorganizzare tutte le donne che avevano ormai il cuore pieno di rosa per camminare insieme. Quindi un po' di tempo ci riorganizziamo e la rifaremo con tanta gioia ancora.